E' utile questo comitato che abbiamo fortemente voluto io e il prefetto, come sapete la nuova legge sui comitati metropolitani sull'ordine della sicurezza pubblica, l'ordine del giorno viene confirmato dal prefetto e dal sindaco metropolitano. Un incontro importante dove è venuta fuori la grande sofferenza dei rappresentanti dei comitati delle zone che già conosciamo della cosiddetta movida della nostra città, così come è emerso in modo chiaro il lavoro enorme che stanno facendo tutte le istituzioni impegnate sul territorio, bene ho fatto a non portare già l'ordinanza firmata ma solamente la bozza che è stato frutto del lavoro degli uffici di questi giorni perché ascoltando ulteriori istanze si può ulteriormente perfezionare il lavoro che è stato già messo in campo sino a questo momento. Così come attenderò da qui a breve le ulteriori segnalazioni che mi forniranno Raffaele del Giudice e Alessandra Clemente, quindi credo che all'esito di questo lavoro la settimana prossima sicuramente ci sarà l'ordinanza.